Ciao a tutti e benvenuti al Nego Kuraku. Oggi vi parlerò brevemente di Una gru infreddolita, storia di una geisha di Kazuo Kamimura. Un'opera uscita per la J-pop in uno splendido volume molto grosso a 14 euro di dimensioni appunto ragguardevoli e con parecchie pagine. Kazuo Kamimura è un autore molto molto valido di cui purtroppo abbiamo veramente poca roba in Italia. Un'altra sua opera che ho già recensito, l'unica uscita nel nostro paese, è Lady Snowblood qui nel cofanetto con i tre volumi, disegnata da Kazuo Kamimura e sceneggiata dal famosissimo Kazuo Koike, uno degli sceneggiatori, degli scrittori di storie manga più famosi della Terra del Sollevante, ricordiamo fra le altre sue opere più famose, dei capolavori assurdi e assoluti come Crime Freeman e Lone Wolf e Cub. Di Lady Snowblood ho già parlato nel mio video precedente, quindi ve lo linko qui sotto e vi parlo invece oggi di Una gru infreddolita. Questa è la prima opera che leggo di Kazuo Kamimura come autore completo, infatti qui è sia alla storia che ai disegni l'autore di Yokozuka. A proposito dei suoi disegni vi ricordo che a Luca Comics 2016 quest'anno ci sarà una mostra delle tavole originali di Kazuo Kamimura, grazie alla collaborazione della sua famiglia, J-Pop e anche a Paolo Lamarca che è il curatore di questo volume, credo che sia anche il massimo esperto di Kazuo Kamimura in Italia e che gestisce anche un blog che vi voglio consigliare che si chiama Una stanza piena di manga ed è un blog che parla di manga come dice il titolo ma non dei soliti shonen, dei soliti battle manga che vanno più per la maggiore, bensì appunto di manga d'epoca, i manga degli anni d'oro di Higaro, i manga Gehiga conosciuti e soprattutto meno conosciuti dal pubblico italiano e di tutto un sottogenere culturale, scusate, relativo al fumetto giapponese. La storia di una geisha è la storia di una bimba che un giorno viene venduta ad una casa di geisha come spesso succedeva in Giappone ancora a quell'epoca, si parla degli anni 30 nel manga, manga che è stato scritto e pubblicato dal 92 al 96 e che tra l'altro si trova nell'unica versione completa al mondo in questa versione italiana perché in quella giapponese erano stati tolti dal curatore dell'epoca due capitoli, inspiegabilmente anche se ci sono forse delle leggere spiegazioni a livello di trama, ma comunque per me non dovrebbe mai essere ammesso da qualcuno che non sia l'autore di poter disporre il piacimento dell'opera. Parla di Zuru, questa bambina che viene soprannominata così proprio perché Zuru significa gru, proprio perché sin da quando è piccolissima per scaldarsi e per non sentire troppo il freddo metteva appunto i piedi, le gambe a formare l'effigie di una gru con una gamba alzata per riscaldare l'altro piede e quindi viene soprannominata così appunto. Lei è una Shikomiko, una bambina diciamo di una certa età, da 8, 9, 10 anni, che accompagnava le sorelle, così venivano denominate, geisha più anziane, anziane sul lavoro chiaramente perché erano molto giovani poi anche le geisha più adulte. Quindi sin da bambina venduta per un sacco di riso, come purtroppo succedeva all'epoca, ancora non era periodo di seconda guerra mondiale ma era comunque appunto dopo la prima guerra mondiale. Il Giappone era abbastanza messo male perché si avvicinava appunto la guerra ma le case di geisha proliferavano ancora e comunque godevano di buona salute nonostante tutto perché comunque si sa che ci sono alcune cose che vendono sempre e la compagnia di una donna sicuramente è fra queste. Abbiamo visto come anche in guerra stessa ci fossero delle sorte di case chiuse proprio negli accampamenti e quindi è una cosa che ha sempre portato anche speranza all'uomo, la vicinanza di una donna e la vicinanza di una geisha non era soltanto una vicinanza a livello sessuale che poteva comunque esserci e nella maggior parte dei casi c'era ma anche una vicinanza proprio a livello più, come dire, di far passare delle belle serate a questi uomini che poi avevano altro e ben più grave da pensare durante il giorno. Infatti le geisha ballavano per loro, cantavano per loro, suonavano lo shamisen che è la tradizionale controparte della chitarra occidentale in Giappone e la ragazzina inizialmente è molto sbadata, è molto con la testa fra le nuvole ma poi durante il volume crescerà fino a diventare la migliore geisha posseduta da questa signora che gestiva la casa di geisha e il volume parla di piccole e brevi storie che poi vanno a formare appunto la crescita di Tsuru e il disegno è meraviglioso. Kamimura veramente era purtroppo perché è deceduto in giovane età. Era veramente un disegnatore eccezionale, anche per questo vi consiglio la mostra che si terrà a Lucca Comics e soprattutto a disegnare le donne che erano il suo punto forte, era cresciuto Kamimura con se non sbaglio solamente la sorella o un paio di sorelle e la madre e quindi contornato da donne e questo si è il riflesso poi su tutto il suo lavoro. Il volume è curato in una maniera esagerata, ci sono addirittura come dicevo prima i due capitoli nascosti, i due capitoli diciamo tolti dalle pubblicazioni in monografico, c'era una mostra che mi stava devastando le palle, le prime pubblicazioni in monografico di questa opera e sono state recuperate proprio grazie al fatto che Paolo Lamarca possedeva le copie originali della rivista su cui era stato pubblicato e quindi che era Big Comic e quindi è stato possibile scansionarle e metterle nel volume e la qualità non ne ha neanche poi risentito perché è stato fatto un ottimo lavoro anche su questi due capitoli. è tutto spiegato nel dettaglio, ci sono tantissime note chiaramente come succede nei volumi di questo tipo e tutte molto molto dettagliate. La carta è leggermente trasparente ma diciamo che va benissimo perché è comunque di buona fattura e come ho detto prima il volume costa 14 euro quindi ve lo consiglio davvero tanto perché è una di quelle opere secondo me fondamentali che tutti gli appassionati di manga dovrebbero leggere. Fatemi sapere se l'avete già letto cosa ne pensate e poi quando lo leggerete cosa ve ne è parso. Potete comprarlo su Amazon scontato del 15% come al solito al link che vi lascio qui sotto. Condividete il video se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, un mi piace se vi è piaciuto anche qui e a presto!